Salve a tutti, in questo episodio vi porto le anticipazioni che vedremo in televisione il 27 e 28 maggio. Unkar e Demir stanno finalmente guardando il video che gli è stato mandato da Mujgan. Finalmente, il proiettore, dopo un paio di giorni, è finalmente arrivato, il giorno del fidanzamento tra Gulten e Chetín. Una volta ricevuto il pacco, i due vanno subito nello studio di Demir e iniziano ad avviare il video. La stanza è davvero carica di tensione e una volta che Demir avvia il video, i due fanno una scoperta scioccante. Nel video si vedono Zuleya e Ilmaz che si abbracciano. Demir, guardando queste immagini, viene immediatamente accecato dalla rabbia. La sorpresa è ancora più gigante quando alla fine del video appare un messaggio di Mujgan diretto a Demir. So che pensi che sia pazza, ma dopo aver visto tutto questo continuerai a mantenere la stessa opinione? Domanda a Mujgan, lasciando sospese molte domande nell'aria. Unkar, nella speranza di placare il suo figlio, cerca di offrire un'interpretazione più serena degli eventi. Suggerisce che Ilmaz e Zuleya potrebbero essersi incontrati per discutere di qualcosa di estremamente importante, cercando di gettare un velo di incertenza sull'interpretazione immediata dei fatti. La signora consiglia a Demir di chiamare Zuleya per chiarire la situazione, ma le sue parole sembrano cadere nel vuoto, senza alcun effetto sull'uomo che si sente sopraffatto dalla rabbia. Preso dall'ira, Demir afferra la pistola dalla scrivania e inizia a caricarla, ignorando ogni forma di ragionamento. Nel frattempo, Zuleya è immersa in una conversazione con Sermini e la moglie di Atip, ignala di ciò che si sta tramando dietro le quinte. All'improvviso, Demir fa eruzione nella casa, con la pistola in mano, la afferra con violenza e la trascina via con sé. Una sensazione di confusione e paura si diffonde nella villa, mentre nessuno riesce a comprendere appieno ciò che sta accadendo. Nel frattempo, la matriarca Unkar, disperata, cerca di fermare suo figlio con tutte le sue forze, cercando di proteggere ciò che rimane e della tranquillità familiare. Il comportamento aggressivo di Demir sconvolge Zuleya, mentre lui la spinge verso l'auto, ignorando le grida disperate della matriarca. «Demir, se la porti via, non ti darò mai la mia benedizione», grida Unkar, cercando in vano di fermarlo. Demendo una possibile follia, in un impeto autodistruttivo, Demir afferra sua moglie e lascia tutti a bocca aperta nella villa, di fronte a uno spettacolo terrificante. Purtroppo, la gelosia di Demir causa un'esplosione che era inevitabile prima o poi. Dalla sua modesta villa, Mulgan osserva la scena dalla porta di casa sua e sembra quasi rendersi conto della gravità delle sue azioni. In quel momento chiama sua zia perché ha bisogno di parlarle e raccontarle tutto ciò che ha appena visto e soprattutto ciò che ha fatto. Nel frattempo, Unkar parte alla ricerca dell'aiuto di Fekeli, l'unica persona in cui ha fiducia per risolvere questo conflitto. In mezzo al caos, Sermine riesce ad entrare nell'ufficio di Demir e si imbatte anche lei nel video che ha scatenato l'ira di suo cugino. Quando Beice raggiunge a Mulgan, la dottoressa confida con sicurezza la sua convinzione che durante quell'incontro Giulia e Ilmaz abbiano stretto un patto per scappare insieme. Va oltre, sospettando persino che suo marito abbia intenzione di portare via anche il figlio. Beice rimane basita di fronte alla decisione presa dalla nipote e cerca di ragionare con lei. Hai valutato tutte le possibili conseguenze che potrebbero abbattersi su Giulia? Le chiede con paura. La dottoressa cerca di giustificarsi, sostenendo che tutti pensano che lei sia pazza e che Demir si senta tradito, mentre Ilmaz ha sempre mantenuto una doppia vita con Giulia. Mulgan viene presa dal panico quando Beice l'avverte che ora anche la vita di suo marito è in pericolo. Sai cosa succederà? Demir ucciderà prima Giulia e poi Ilmaz. Avresti dovuto chiedere il divorzio invece di commettere questa follia? dichiara Beice con fermezza e rammarico. Nel frattempo Unkar e Fekeli si avventurano nel bosco, disperatamente alla ricerca di Demir e Zuleia. La signora continua a gridare il nome del figlio, sperando di trovarli e di prevedere una tragedia imminente. In mezzo al fitto bosco Demir punta l'arma contro Zuleia, accusandola di infedeltà e rimpiangendo di essersi innamorato di lei. La sua rabbia e delusione raggiungono l'apice, creando un clima carico di tensione e pericolo. Zuleia cerca di spiegare che lei e Ilmaz hanno solo avuto una conversazione, durante la quale ha sentito lui confessare di aver ucciso Erkument. Era preoccupata per lui e voleva capire cosa stessa accadendo. Demir fuori di sé le chiede indignato, perché non mi hai chiesto se Ilmaz è stato l'assassino di Erkument? Questa è la tua ammissione, eri preoccupata per noi? grida mentre Zuleia piange disperatamente. Convinta che sia giunto il suo momento finale, Zuleia pronuncia le sue ultime parole a Demir. So che ti prenderai cura di Leila perché è tua figlia, ma ti prego non trascurare Adnan. Se non lo vuoi, portalo da suo padre, non odiarlo solo perché non è tuo figlio. Con urlo Zuleia dichiara Adnan è mio figlio, nonostante ribadisca di non aver commesso nulla di male e di aver la coscienza pulita. Demir continua a non crederle. Dopo queste parole vediamo Demir puntare l'arma contro sua moglie, mentre nel bosco regna un silenzio spettrale. Improvvisamente si sente uno sparo. Unkar inizia a domandarsi se è stato Demir a sparare a Zuleia, mentre Fechieri cerca di tranquillizzarla, ma un altro sparo recheggia. Gettando Unkar nel terrore. La donna inizia a chiamare il nome di Zuleia, ma purtroppo non riceve alcuna risposta. Poco dopo vediamo Demir camminare da solo attraverso il bosco, entrare nella sua auto con le mani sporche di sangue e piangere disperatamente. La vita di Zuleia è seriamente in pericolo e la domanda che ci facciamo tutti è se Demir sia stato capace di sopprimere l'amore della sua vita. Voi cosa ne pensate? Ditemelo nei commenti. Le anticipazioni finiscono qua. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale, ma non dimenticate di attivare le notifiche per non perdere le future anticipazioni di questa fantastica sopp terra amara. A presto, ciao!